Buongiorno a tutti, buon martedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come detto nel video pubblicato nella giornata di Pasqua alcuni pensionati hanno ricevuto le pensioni anticipatamente. Poi come confermato nei commenti del nostro video parliamo dei pensionati che hanno banco posta mentre per tutti gli altri il pagamento delle pensioni è previsto per la giornata di oggi sia in banca che in posta. Alcuni di voi come accade spesso nelle ultime mensilità ci stanno facendo notare che nelle pensioni di aprile c'è un importo più basso. Vediamo insieme tutti i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per continuare a supportarci. Grazie. Come dicevamo poco fa oggi è il giorno ufficiale del pagamento delle pensioni di aprile 2024 per tutti i pensionati. Pensioni che non avranno nulla di particolare se non qualche aumento ritardatario non arrivato per via della neoriforma IRPEF mentre tutti gli altri pensionati riceveranno l'importo della pensione regolare aumentato ormai da qualche mese grazie alla riforma IRPEF 2024 che ricordiamola ancora una volta è passata da quattro scaglioni a tre scaglioni. Sulle pensioni poi sono presenti le solite trattenute le addizionali regionali e comunali e l'IRPEF. Attenzione però come dicevamo molti di voi ci stanno facendo notare che ad aprile l'importo risulta più basso. In realtà non è né una novità né un errore da parte di IMSS. I pensionati che notano un importo più basso della pensione devono controllare innanzitutto se sono ancora in debito con IMSS. Come detto nei video pubblicati nelle scorse settimane i conguagli a debito IMSS continuano fino alla fine dell'anno quindi chi non ha saldato il debito potrà trovare anche in questa mensilità una decurtazione sulla pensione. Proprio per questo alcuni di voi scrivono mi hanno tolto 8 euro mi hanno tolto 4 euro proprio perché continuano i conguagli IMSS non c'è nessun tipo di errore. Fateci comunque sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra situazione sulla pensione se avete trovato sorprese o comunque se chi non aveva ancora ricevuto gli aumenti per via della riforma IRPEF li ha ricevuti questo mese con i relativi arretrati.